Ciao Joseph! Giuseppe! È la zia Lidia tedesca? Giuseppe! Ancora un po'? Giuseppe! Eccola! Ciao Giuseppe! Ma chi sei scusa? La zia Lidia! Ah la zia Lidia! Te la ricordi tu Giuseppe? No veramente? Come fa? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Ma è tua cugina di Verona la zia Lidia? La zia Lidia e io zia Lidia! Ok va bene! E mai cugine! No dietro è cugine! Ma anche mai cugine! Va bene va bene! Con una testa di cabello biondo! Si certo! Rizzin! Fizzin anche la ora! Come su mir Giuseppe! Come su mir! Tu sei! 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 Dove abiti in zia Lidia? Scusa! A Pontonen! Come? A Pontonen? Un paesino vicino a Stokkarten! 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 Ecco Stokkarten! Non fare gesti perché... Non è! Non è! Stokkarten! Sì! Ma vengo! Come si arriva! L'naturiatum perché... Tu prendi... Transpolizzanen! Transpolizzanen! Sì! Te passi via Opeanen! Isola Ritzen! Sì! Rufferchiaren! Sì! San Peter de Morubien! Sì! Legnakov! Fila Bartolomea! Patia Polese! Poi avanti e avanti! Poi Auschwark! Uscita! Eh sì! Occhio Bello! Occhio Bello! Ancora! Occhio Bello! Avanti e avanti fino a Porto Garibaldi! Sì! Il primo paese che tu cadi è Pontonen! Pontonen! Che accatame Giuseppe! Che accatame che ti faccio i krauten! Ah i krauten eh buoni! Che il krauten fa bene per fare le cacche! Eh! L'effetto pelle le cacche Giuseppe! Sì! Pelle dentro! Se no! Tieni il stomaco! Sì! Tu! Sì! Fizz! Sì esatto! Mizz! Mizz! Che te fettezze! Giuseppe! Ma facci questo quello lì! Come? Facci! Chi è lo che lì? Questo è Mauro da Treviso! Mauro! Mauro da Treviso! Mauro! Ma è tuo amico Mauro? Sì! Manelungen? Ma come Manelungen? No! No! Che bello che rubava macchinette alla stanza! Quella è un'altra! No! Non ce lo perde Giuseppe! Sì! Che quando ti serve i piccinini ti hai portato i carabinieri a casa! Ricordo! Ti è lui! Lo riconosco Giuseppe! Ah sì! Perché non ci fanno paure! Quando arrivai i carabinieri che mi avevano il stomaco tutto! Sì certo! Poi! Fizz! 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 Mizz! Che te fettezze! Giuseppe! Fammi la carità! Mauro! Eh! Galoncore! Caldizien! Eh no! Eh no! Eh no! Adesso vado a rubare noci di prosciutto al pepe in autocrillen! Eh! Odisken de Cicci d'Alessien! No! Stai che lontane Giuseppe! Si va bene! Ascolta tu zia Lidia! Ah! Te saluda tu cusine Hans Salvatgen! Scusami com'è? Che Hans? Hans Salvatgen! Salvatgen! Si! Te lo ricordi le chiamava così! No! Perché le era un Salvatgen! Un Salvatgen! E che le combinava! Ein peso de Ninetan! Ah! Ok! E' un detto tedesco! Si certo! Dai Giuseppe vieni a catarmen! Io ho ancora il facetem dove ti farei le cacche! Vabbè quello è lo stesso! Anche a Linz! Mania ma basta! Che bello azzurro disegnato con stronzette Giuseppe! No! Che bello ricordo che ti avevi fatto eine stronzette! Si! Che era tu! Si! Si! Si certo! Miss! Che te te fingalzate Giuseppe! No! Basta! La bianca no! Che parea! Che te fesse! Dai che diciamo! Su col cric! Porta anche le tue morosette Giuseppe! Si va bene! Che tu ancora la morosette! Si certo! Come no! Quella con la testa del cavallo! Svazze! Svazze! Rizze! Rizze! Fizze! Quelle rizze! Ah ma non era bella! Non era bella! Non era bella quella! Eh! Eine cadenasen! Un cadenasen! Eh no! Come cadenasen! Con culate in basse! No! No no! Ma faceva scintine per terra! No! Come scintine per terra! Eh! E che aveva fiacche e sapeva da! Abfazze bluleten! Come scusa? Sacchetto di umido! Cos'è scusa? Ah! Saccetto di umido! Giuseppe! Sì! Dimmi! Va bene! Ho capito! Te l'ho per te proprio! Ya! Ya! Ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! In collaborazione con Oxygenia! Acqua arricchita d'ossigeno! Autozai! Agenzia matrimoniale! Subito amore! Vignola termoidraulica! lucanoleggiopiattaforme.it